Portare le prece, oltre a redigere tutti gli atti dovuti, abbiamo quasi finito, vi dico già che molti di loro, se non tutti, quelli che hanno oggi subito anche la perquisizione domiciliare, sanno comunque prendere le dichiarazioni spontanee per confermare quanto già abbiamo riscontrato. Ora ovviamente ci siamo già attivati, interesseremo l'ufficio immigrazione per vedere un attimo di rivalutare tutte le permesse di soggiorno rilasciate a questi soggetti o comunque molti di questi sono state alcune pratiche già sospese perché sotto le nostre indicazioni, però naturalmente l'ufficio immigrazione non poteva dare all'ufficio immigrazione ulteriori dottali perché sennò l'indagine sarebbe stata compromessa. Quindi ora li renderemo i dotti di tutto e vedranno loro se stranieri potranno, questi stranieri potranno rimanere qui, magari con un altro permesso di soggiorno se ne hanno detto oppure naturalmente il permesso di soggiorno l'ha revocato e vanno espulsi dal territorio italiano.